Ricominciano i recent podcast sul mio canale ma lo fanno in un'edizione straordinaria, un momento invernale per celebrare quello che è assolutamente un qualcosa di straordinario, è avvenuto poco fa al rally di Monte Carlo che in modo appunto straordinario inaugura i recent podcast, in attesa che tornino dunque gli argomenti principali dei motori. Qui sul mio canale ovvero banalmente Formula 1 e Superbike con qualche aggiunta di MotoGP parliamo di rally che è un'altra disciplina che seguo non magari con così tanta attenzione rispetto magari a Formula 1 e Superbike per esempio ma appunto in attesa che ripartano i contenuti di un certo livello aumentiamo la dose con un altro contenuto di un certo livello ed è quello che è successo al rally di Monte Carlo che si è concluso poco fa con quello che è esattamente successo l'anno scorso. Se vi ricordate nel 2022 una leggenda vinse il rally di Monte Carlo con un programma part time, in quel caso fu Sébastien Loeb, nel 2023 una leggenda di questo motorsport seppur che un programma part time vince il rally di Monte Carlo ed è Sébastien Nogier che a tutti gli effetti è il re di Monte Carlo. Nona vittoria per il pilota francese di GAP quest'anno peraltro con un navigatore diverso che è Vincent Landet alla prima vittoria della carriera insomma qualcosa di allucinante e bellissimo che va giusto celebrarsi qui sul mio canale sportivo in una disciplina che appunto come ogni anno ha inaugurato il mondiale rally. Sappiamo che quest'anno il calendario del mondiale rally è fatto di 13 e 20 il primo è sempre il rally di Monte Carlo che ha concluso come si può vedere qui dalla mappa la sua avventura al Col de Turigny che è uno dei punti iconici di questo rally di Monte Carlo. Peraltro Col de Turigny che è stato protagonista per tre speciali su 18 sappiamo benissimo come i rally a differenza delle gare tradizionali su pista non siano delle prove letteralmente contro gli avversari ma sono delle gare in seguimento contro il cronometro. Il Col de Turigny ha appunto ospitato la prova inaugurale del giovedì sera e anche ovviamente la power stage finale oltre che ovviamente una prova nella domenica mattina. Nella power stage tutti i piloti hanno dato fondo alle proprie capacità soprattutto quelli interessati alla lotta per il mondiale ma ci arriveremo. Fatto sta che è clamoroso che comunque ancora una volta un pilota part time in questo caso Sebastien Auger abbia fatto la voce grossa con una macchina assolutamente dominante perché ricordiamo che da qualche stagione Auger è in Toyota. Quest'anno ha appunto svolto il programma part time e svolgerà il programma part time a partire dal rally di casa perché parliamo di un rally delle pre alpi francesi. È vero che il parco assistenza era a Monte Carlo come si è visto dalla grafica precedente ma appunto di fatto il Col de Turigny è nelle pre alpi francesi. Auger è nato a Gap conosce a memoria queste strade sappiamo che Auger e Loeb sono i più grandi di questo particolare evento motoristico ovvero il rally e di conseguenza è vero che Auger fa un programma part time ma è altrettanto vero che il talento non si perde mai. E Auger ha dato ancora la prova che è veramente un grandissimo un fenomeno assoluto vero e va a vincere per la nona volta il rally di Monte Carlo. Una prova che è assolutamente dominato da un certo punto di vista c'è stato però un brivido quando a un certo punto Calle Rovanpera ha provato ad arrivare nelle redini nelle corti di Auger ma alla fine domenica mattina il pilota francese il fenomeno francese. Sebastien Auger ha messo tutti d'accordo e alla fine ha centrato la nona vittoria in carriera al rally di Monte Carlo. Nessuno come lui perché fino a oggi otto vittorie a testa c'erano sia per Loeb sia per Sebastien Auger in un rally di Monte Carlo che va detto aveva diciamo suscitato altre prevense. Perché noi torniamo in questo momento alla schermata iniziale qui vediamo le tre scuderie principali di questo mondiale rally 2023 al secolo Toyota Ford e Hyundai con le due case asiatiche che avevano comunque confermato dei piloti di punta da una parte Calle Rovanpera e dall'altra Thierry Noville pilota belga. La rivoluzione l'ha fatta Ford che presenta due macchine in meno rispetto al solito ma anche lei ha un pilota di punta ovvero Otanaka che ha divorzato da Hyundai ed è tornato dove effettivamente venne lanciato nella carriera evidentemente comunque le premesse ci sono tutte. Da un certo punto di vista perché Rovanpera l'abbiamo visto ha fatto podio seconda posizione in generale per quanto riguarda il campione del mondo regnante del mondiale rally ricordiamo che Rovanpera è il pilota più giovane di sempre ad aver mai vinto un titolo del mondo rally. Terzo è Thierry Noville, Otanaka invece è quello evidentemente più deluso perché è vero che finisce quinto in classifica generale ma comunque prende punti importanti della power stage ma ovviamente ci arriveremo a spiegare come funzionano le dinamiche del campionato rally anche in base alla classifica generale che farà ovviamente da contorno a questi racing podcast che saranno straordinari però comunque sono degli ottimi momenti per approfondire anche altre categorie del motorsport. Di conseguenza possiamo già dire che il mondiale rally 2023 è partito sotto i migliori auspici perché appunto ancora una volta ripetiamo Ogier vince e va al primo posto ovviamente della classifica dei rally di Monte Carlo quindi podio nobile per prendiamo probabilmente del più grande di sempre di questi rally o comunque uno dei più grandi insieme ovviamente a Sébastien Loeb. In seconda posizione abbiamo Calle Rovampera che comunque ha provato a rimontare su Ogier ma alla fine il francese ha messo tutti d'accordo con una domenica mattina sul pezzo. Rovampera dunque si è tra virgolette accontentato dalla power stage che peraltro ha vinto facendo un terzo passaggio sul coltato di Torini clamoroso in dieci minuti e un secondo puliti quando gli altri andavano praticamente oltre dieci minuti e dieci secondi. Terzo invece è Thierry Neville il pilota belga di Hyundai il pilota di punta della casa coreana che ha dovuto abbandonare Otanac per divergenza col pilota Eston e dunque ha puntato tutto su Neville che appunto è il pretendente al mondiale insieme a Calle Rovampera. È vero che come vediamo dalla classifica generale che come sempre è trattata da Wikipedia inglese Sebastien Ogier è primo in questa classifica mondiale ma sappiamo perfettamente che sui 13 rally di questa stagione Ogier non li farà tutti e di conseguenza la classifica valetta in un altro modo. E tolto Ogier ci sono comunque Rovampera e Neville che se la giocano perché il finlandese campione regnante di categoria è secondo a 23 punti che sono 18 per quanto riguarda i punti della seconda posizione come in Formula 1 banalmente il punteggio sistema uguale sostanzialmente. Mentre per quanto riguarda la Power Stage avendo vinto l'ultima speciale che appunto da punti extra Rovampera si aggiudica 5 punti in più totale 23. Thierry Neville invece finisce terzo in classifica generale e quarto di Power Stage e dunque la somma dei punti è 15 più 2 di conseguenza 17. Non facciamo caso appunto ai 26 di Sebastien Ogier che comunque va tra virgolette dal leader del mondiale dopo la prima prova ma appunto come dicevamo prima Sebastien Ogier farà dei risultati part time. È comunque un rally di Monte Carlo che ha dato sicuramente delle informazioni importanti. Sicuramente che Toyota è la macchina da battere, Hyundai ha un piatto di punte e gli altri hanno fatto fatica. Fordham Sport invece è praticamente disastroso, non pervenuta, ha un grandissimo pilota ovvero Hotanac e gli altri hanno fatto fatica per varie ragioni. E lo vediamo analizzando bene la classifica delle VRC1 che di fatto è una classifica molto spoglia perché per vari motivi c'erano soltanto 9 vetture più una della categoria regina al via di questo rally. Appunto la Toyota comunque fa una buonissima prestazione di squadra perché piazza Elvin Evans in piatta gallese in quarta posizione, Evans che peraltro ha forato e di conseguenza questa quarta posizione è un po' vasura altrimenti probabilmente stiamo parlando di una cosa molto diversa, potenzialmente una tripletta Toyota. Il sesto classificato è Takamoto Katsuta che anche lui ha dei rimpianti perché poteva arrivare massimo alla quinta posizione ma appunto ha avuto un problema di forature e danno alla posteriore sinistra nell'ultima speciale, la power stage del Col de Turini e di conseguenza ha dovuto abdicare per la quinta posizione. Una quinta posizione che appunto è a caspito di Ottanac, il pilota Estone che è stato campione del mondo del 2019 che ha una macchina deficitaria, sappiamo benissimo come quest'anno M Sport abbia di fatto dimezzato il parco partente titolare da 4 a 2 macchine e appunto Ottanac è il pilota di punta sulla quale la casa inglese sicuramente punta. Certo che comunque 14 punti dopo una gara è un buon risultato per Tanac, per lui probabilmente personalmente no perché sappiamo che Tanac è un pilota che comunque quando è in giornata punta sempre al podio se non di più ma certo la macchina rispetto anche a Hyundai e a Toyota è assolutamente indietro. L'altra Ford titolare è quella di Pierre-Louis Lubez che è dovuta ritirare per dei problemi meccanici oltre che a problemi di natura del servosterzo e anche a errori dovuti alla gara del pilota francese che comunque è il primo anno a titolare in M Sport. Le altre vetture sono quelle sostanzialmente o delle VRC2 o comunque delle Hyundai che comunque Tolton e Villano hanno fatto molta fatica perché Daniel Sordo, pilota spagnolo, ha concluso in settima posizione e l'ultima delle VRC1 è Esape Calapi che sarebbe il secondo pilota titolare della casa coreana che comunque ha debuttato con la casa coreana in quest'ora di Monte Carlo e ha fatto oltremodo fatica. A differenza però di Sordo che farà un programma part-time, Lappi farà un programma da titolare completo, di conseguenza ci poteva aspettare qualcosa in più da un pilota che comunque di talento ne ha e comunque a mio avviso merita un posto da titolare in questa categoria. Gli altri piazzamenti per concludere l'atto tena assoluta sono in realtà delle VRC2 che comunque hanno regalato una lotta molto bella per la vittoria di categoria, alla fine ha vinto il russo Nikolai Gryazin, prima vittoria per lui in carriera e dunque per lui suona o dovrebbe suonare l'inno russo ma ovviamente non suona per gli ovvi motivi del conflitto russo-ucraina. Rossell che è stato il più grande contendente invece di Gryazin si doveva contendere di una seconda posizione, comunque questi due piloti che sono primo e secondo del VRC2 hanno totalizzato punti anche per la classifica assoluta del campionato del Mondorelli che appunto invece è governata da Sébastien Ogier per il quale ricordiamolo ovviamente suona la marsigliese. Per un Mondorelli che dunque se doveva dare delle indicazioni lo ha dato sicuramente Ogier può essere una mina vagante, un jolly per gli altri rally da qui a venire perché se il range, il rendimento del talentosissimo pluricampione del mondo francese è questo allora attenzione. Per il campionato costruttore di Toyota è comunque una a marzo superiore perché appunto i tre piloti di punta hanno fatto primo, secondo e quarto, Rovanpera da campione regnante è di fatto l'idea virtuale del Mondiale perché appunto Ogier ricordo non ci sarà in Svezia, Neuville che è il principale antagonista è subito dietro, è mancato leggermente Oitanak che però ha fatto una power stage sontuosa e ha difeso una discreta quinta posizione, vedremo poi come evolverà la Ford nei prossimi rally. Rally che appunto avrà il prossimo appuntamento in Svezia in un tre giorni di fatto dal 9 al 12 di febbraio per il quale si è già anche la lista dei partenti quindi andiamo ad analizzare quello che dicevamo prima perché la classifica va interpretata appunto dei piloti che abbiamo visto a Monte Carlo non ci saranno né Ogier né Dani Sordo dal posto di sordo ci sarà Craig Green pilota irlandese mentre appunto Ogier lascerà il posto nel team ufficiale Takamoto Katsuta che ha fatto sesto e ci sarà comunque una quarta Toyota in pista quella del nostro italiano Lorenzo Bertelli che è uno dei piloti italiani più competitivi del panorama realistico che fa qualche apparizione qui e lì di conseguenza avremo modo di vederlo in Svezia insieme al suo navigatore Simone Scattolina peraltro per Bertelli è un buon passaggio perché fino all'anno scorso Bertelli era in Ford e ha fatto settimo in Nuova Zelanda qui invece passa Toyota sicuramente una macchina più competitiva rispetto a una Ford che comunque schiererà due macchine più un privato in questo caso il privato di Monte Carlo era il greco Jordan Serderides che però è di fatto un gentleman quindi non ha potuto correre né per i costruttori né per la classifica mondiale in conseguenza Ford dovrà puntare tutto su Otanac e Pierre Louis Loubet una coppia molto interessante è ovvio che il riscatto dovrà venire da Otanac che sulle nevi di Svezia dovrà comunque far performare questa Ford che abbiamo già visto l'anno scorso come ha performato in alcune situazioni in particolare con il fenomeno Sebastian Loeb per quanto riguarda invece gli altri piloti sono tutti confermati l'unico appunto avvicinamento è Brin per sordo ma sappiamo come la terza Hyundai sia di fatto a programma part time così come di fatto la terza Toyota che quando non ci sarà presente Ogier sarà a discapito di un privato e cazzuta dal team indipendente passerà sopra al team ufficiale per il resto attenzione al duello tra il finlandese volante Calle Rovamper ricordiamo pilota più giovane di sempre a vincere un capitolo del Mondorelli e Thierry Neville che comunque hanno fatto quello che devono fare ovvero stare vicini e difendere le proprie posizioni sul podio al netto che comunque in power stage Rovamper mi ha dato l'impressione di avere quel qui di in più rispetto a Neville che è partito a handicap sappiamo comunque che Hyundai ha tarato la vettura proprio sulle caratteristiche del pilota belga vedremo come si comporteranno sia il finlandese sia il belga nelle nevi di Svezia ricordiamo appuntamento dal 9 al 12 di febbraio ci sarà anche un rally italiano in questo calendario lo vediamo segnato in mezzo di fatto alle 13 prove del Mondiale 2023 si andrà in Sardegna come sempre dal primo al 4 di giugno per un Mondiale rally che farà spero anche per voi qualche comparsata qui sul mio canale sportivo in attesa che riprenda la Formula 1 e anche la Superbike per il quale sarò ancora una volta a misano a vederla dal vivo e lì ovviamente reportage con commenti e vlog vari ovviamente il rally sarà presente non solo qui ma su Sky Sport che ha rinnovati diritti per fortuna anche per questa stagione Sky Sport che ha una buonissima squadra di telecronisti con Rosario Triolo, Lucio Rizzica, Gabriele Cogni, Andrea Crugnola e Dario Despoito per 13 appuntamenti che si riprenderanno da qui fino a novembre di fatto per l'unico Mondiale senza sosta nel corso del Motorsport il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video